Musica Signore e signori buonasera a nome di Roma Capitale, del Dipartimento Cultura, delle Biblioteche di Roma benvenuti a questa serata ultima serata di questa nostra densa, ricca, impegnativa e speriamo significativa settimana della memoria quest'ultimo appuntamento è nato qualche mese fa proprio in occasione della presentazione dedicata a un libro su Teresa Noce in quella circostanza Valeria Fedeli ci sollecitò a riflettere sullo specifico della reportazione femminile Valeria Fedeli che purtroppo questa sera doveva essere con noi ci ha telefonato qualche ora fa in preda all'influenza e quindi anche lei, ahimè dovuta capitolare, si scusa con tutti ma porta a tutti noi presenti in particolare agli amici relatori il suo saluto lo specifico della deportazione femminile in qualche modo ne abbiamo già iniziato a parlare appunto qualche settimana fa con il libro dedicato a Teresa Noce abbiamo avuto qui Ginette Colinca che ha presentato appunto il suo libro di memorie e soprattutto ne ha parlato nel suo memorabile discorso la senatrice Liliana Segre proprio Liliana Segre in questo discorso che penso tutti noi porteremo un po' per sempre proprio come patrimonio imprescindibile della memoria della Shoah ha detto ieri al Parlamento europeo prima attraversamo la Polonia, la Slesia, poi fu Germania dopo mesi e mesi passando altri lager, altri orrori, altri mali arrivamo alla Jugendlager di Ravensbruck eravamo giovani ma sembravamo vecchie senza sesso, senza età, senza seno, senza mestruazioni, senza mutande non si deve avere paura di queste parole perché è così che si toglie la dignità ad una donna e già in queste parole appunto lo specifico tutto femminile della deportazione e un grazie particolare all'ANED che appunto raccogliendo l'invito dell'onorevole Fedeli ha voluto organizzare questo incontro e lascio subito la parola ad Aldo Pavia che ci introdurrà al tema volevo solo ringraziare anche i tanti giovani che vedete qui stasera che sono giovani del servizio civile delle biblioteche di Roma e che per dare un contributo attivo alla riuscita di questa serata presteranno anche le loro voci in particolare si tratta di Raul, Giulia Maria e Sara che leggeranno delle testimonianze grazie a tutti per essere intervenuti Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questo incontro noi accogliendo appunto il suggerimento ma anche la disponibilità dell'onorevole che purtroppo l'influenza colpisce non è cinese però quindi possiamo stare tranquilli abbiamo voluto affrontare nell'ambito delle cose degli incontri organizzati per il giorno della memoria abbiamo ritenuto opportuno di parlare della deportazione femminile perché continua ad essere la pagina meno nota in più noi sentiamo oggi, in questi giorni, in questi ultimi tempi riaffiorare parole, valutazioni, idee, violenza per quanto riguarda il mondo femminile e quindi ci è sembrato opportuno parlare di Ravensbrück poi di Ravensbrück vi parlerà abbondantemente Ambra Laurensi che è figlia di una superstite di Ravensbrück Mirella Stanzione che purtroppo è nipote già è vero anche e purtroppo Mirella per questioni di salute e per l'età non ha potuto essere qua e credo che sia una delle ultimissime sopravvissute di Ravensbrück e abbiamo ritenuto anche di parlare almeno di due, tre donne probabilmente sono nomi che soprattutto per i giovani dicono nulla o molto poco è una bella gioia che continua per me essere la direttrice dell'IRSI anche se evidentemente ha sofferto troppo vi parlerà poi in particolare di Lidia Rolfi ricordiamoci che Lidia Rolfi la casa di Lidia Rolfi sulla porta è stata già la svastica con cui c'è un ebreo poi ci sono degli ebrei perché era yuden, era plurale ma questo poi è accaduto anche a Torino sulla casa di una partigiana ora può anche essere che i razzisti siano deficienti però comunque quantomeno non sanno distinguere perché guarda caso sono due partigiane e due ebrei ma non fa particolare differenza poi soprattutto non lo fa per noi e come dico qui abbiamo messo qualche viso tanto per indicativamente le donne dall'Italia deportate a Ravensbrück sono circa 900 censite sappiamo nome e cognome altre presupponiamo che circa 150-200 non abbiamo trovato e poi come in tutti i laghi i documenti sono stati distrutti è anche interessante sapere che le prime due donne italiane che arrivano a Ravensbrück sono di Roma e non appaiono nei trasporti perché non fecero parte di un trasporto furono arrestate e non si sa perché il 10 ottobre del 1943 portate a Regina Celi passate per Via Tasso poi messe su un treno portate nel carcere della Gestapo a Berlino quando Berlino cominciò all'inizio del 1944 ad essere bombardata le hanno prese le hanno portate a Ravensbrück sono madre e figlia la madre purtroppo morirà la figlia è sopravvissuta ed è morta due anni fa negli stessi giorni quasi nelle stesse ore arriveranno anche altre due italiane anche queste non appaiono nei trasporti dall'Italia perché arrivano da Mauthausen e le mandano poi dopo pochi giorni erano il 4 febbraio a Mauthausen intorno al 15 febbraio sono già a Ravensbrück le prime donne italiane deportate direttamente dall'Italia a Ravensbrück sono il 30 giugno del 1944 sono 14 donne sono tutte partigiane antifasciste che arrivano dalle carceri nuove di Torino e tra queste c'era Anna Cherchi nome che non dice nulla ma che è stata una dei grandi testimoni per quello che riguarda l'agri di Ravensbrück questo è il 30 giugno il 5 agosto del 1944 arrivano da Verona non sappiamo purtroppo quanto fossero le deportate e tra queste c'erano partigiane antifasciste e ebrei di matrimonio misto che da Fossoli furono mandate a Ravensbrück tra queste mi fa piacere ricordare tanto Maria Montuoro ma era la partigiana che è anche la figura che poi ha dato ampia e importante testimonianza su ciò che è stato Ravensbrück e poi Maria Bottoni che era la segretaria di Ferruccio Parri Parri allora era già alla macchia ovviamente ma lavorava alla Edison lei era la sua segretaria vanno a casa sua per vedere se nel percao trovavano Parri invece trovano documenti di Gertri Kolinsky che era un polacco militare che era il comandante delle formazioni partigiane nel nord est e quindi la portano a Fossoli e poi va a Maria Bottoni comunque aveva la madre ebrea padre no ma la madre si e l'11 ottobre da Bolzano ecco da Bolzano questo è un trasporto molto interessante tra le deportate di questo trasporto c'è la tua madre e tua nonna poi c'è una Bianca Paganini Bianca Paganini anche a lei dobbiamo molto della conoscenza di un campo che è stato per decenni misterioso Bianca Paganini se mi sbaglio arriva con la madre e la sorella e Bianca Paganini poi fu per molti anni la rappresentante della nostra situazione della situazione di tragi deportati nel comitato internazionale di Ravensbruck erano circa 110 deportate Bianca Paganini ci ha detto noi eravamo 60 per vagone erano due carri nel novembre del 44 un trasporto da Trieste noi siamo riusciti a identificare 52 donne erano sicuramente di più ma non sappiamo chi fossero sempre in novembre quattro giorni dopo 24, 28 anche qui da Trieste non si sa quante fossero ne abbiamo identificate 12 e di queste 12 si è stata una sola superstite Margherita Ancona poi da Trieste ancora il 6 dicembre il 44 30 e forse più deportate e tra queste ma leggeremo poi una sua testimonianza Savina Ruppel Ruppel è il cognome originario ma la registrazione del campo è Ruppelli perché era una slovena quindi aveva dovuto italianizzare il nome no perché la fascistizzazione l'italianizzazione di quelle terre portò anche a italianizzare il nome le ovagliane il suo nome era tutt'altro poi da Bolzano nel dicembre 44 non sappiamo quante fossero e poi l'ultimo trasporto il 16 gennaio del 45 e sono circa 160 donne come abbiamo potuto ricavare da un documento che ha il centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano c'erano anche degli uomini di questo tutto questo trasporto sono poche delle superstite quella che ci ha dato sia una testimonianza importante sia perché era una partigiana e quindi sull'attività delle donne nella resistenza e poi del campo Rosa Cantoni questi sono i trasporti dall'Italia non appare nei trasporti italiani Teresa Noce perché Teresa Noce arriva come francese tra i tanti nomi che si è falsi che si dava quando viene arrestata per la seconda volta in Francia lei dice da un nome che in questo momento non mi ricordo un nome comunque italiano ma dichiara come luogo di nascita Iaccio in Corsica e quindi è una francese noi non trovavamo la sua immatricolazione non sapevamo neanche il numero di matricola perché poi lei nelle sue memorie non l'ha mai citato Teresa Noce dopo una permanenza a Ravensburg viene trasferita in un sottocampo Alishain Alishain era un sottocampo di Ravensburg passato poi in un reassetto amministrativo dei Lager passato poi alle dipendenze di Flosse e lì lei lavora e nei suoi due libri ma soprattutto in rivoluzionaria professionale ci lascia la testimonianza di un impegno politico continuo in defesso anche nel Lager e poi lo leggeremo Teresa Noce mi tocca leggere dove avrebbe tutto questo parlarne la nostra oh non mi viene il nome ah no e siccome ha fatto un mare di cose Teresa Noce veramente ha una biografia sterminata mi sono preso il libro e qualcosa comunque Teresa Noce è nata a Torino nel novecento da una famiglia povera una famiglia operaia e da ragazzina proprio comincia a lavorare in fabbrica ma subito in fabbrica già a diciannove anni si iscrive al partito socialista e si impegna e crea il primo nucleo socialista giovanile a Porta Palazzo che è un luogo storico di Torino poi quando c'è il fuoco successo di Livorno nel ventuno lei lascia abbandona il partito socialista e va con il partito comunista d'Italia responsabile già dall'inizio della federazione giovanile in questo periodo conosce il marito Luigi Longo che poi è la figura non diventerà poi Longo anche segretario del partito comunista italiano e è una delle figure della resistenza perché è il vice comandante del corpo volontario della libertà ed è il capo di tutte le formazioni garibaldi durante la resistenza vado velocemente con il marito più volte va a Mosca sia per dei corsi di formazione sia in rappresentanza del partito dell'organizzazione del partito italiano soprattutto quelle giovanili nel 31 organizza lo sciopero delle mondine che passerà alla storia perché è uno dei primi sciopero esclusivamente femminili le mondine che rivendicano tutta una serie di diritti e quando in Spagna scoppia la guerra civile si reca con l'ongo ma però lei dirà sì mio marito è l'ongo ma io penso con la mia testa quindi già era molto chiara la sua visione della condizione femminile va in Spagna entra nelle formazioni garibaldi dirige due giornali delle brigate internazionali nel 39 come altri rientra dalla Spagna in Francia e subito viene arrestato come succede a Paietta come succede a Bardini tutti quelli che rientravano dalla Spagna vengono arrestati con l'ongo viene rinchiuso in un campo di concentramento a Rue Cross poi in base all'accordo dell'armistizio tra la Germania e la Francia lei su intervento dell'Unione Sovietica va ricordato che in quel momento l'Unione Sovietica era tutta dalla parte dei tedeschi dei nazisti perché c'era il patto Ribbentrop-Molotov quindi viene liberata viene liberata e lei si nasconde perché ovviamente continua la sua attività clandestina si nasconde a Marsiglia e viene ospitata dalla famiglia di Montan del grande cantante che allora diceva Lupi se non mi sbaglio italiano lei entra nei partizani cioè la formazione della resistenza francese dichiara impronta comunista nel 1943 viene arrestata ancora dalla polizia francese lei era clandestina ovviamente cerca di raggiungere Parigi ma viene arrestata viene portata in un carcere femminile e poi nel 1944 viene consegnata ai tedeschi con altre donne parte per Ravensbrück quando viene liberata inizia poi tutta la sua attività politica ed è esterminata quello che è importante è sapere che Teresa Noce è una delle madri costituenti e si batterà nella sua sottocommissione proprio su quelli che sono i diritti e le necessità che devono essere riconosciute alle donne quindi ad esempio garantire ai bambini legittimi o illegittimi la possibilità di uno sviluppo fisico morale intellettuale sostiene l'assoluto diritto delle donne a procreare in condizioni economiche in condizioni igieniche e sanitarie compatibili sostiene che le casalinghe che non pagavano contributi abbia però lo stesso diritto alla previdenza e via dicendo ma si batterà anche per altre cose ad esempio tutela delle lavoratrici madre che al momento del incinto del parto potevano essere automaticamente licenziate senza poter fare senza opporsi viene ovviamente eletta al Parlamento e tra l'altro anche nel collegio di Palma e Piacenza non lo dico mia moglie che è di Palma e purtroppo avrà un momento di grave sconforto che la porterà anche un po' a lasciare la politica quando viene a sapere che Lungo l'avrebbe abbandonata lo viene a sapere non è il marito che glielo dice lo viene a sapere oltretutto lo viene a sapere dai giornali questa è una cosa credo tremenda però si allontana dal partito non si presenta più come candidata alle elezioni ma in rappresentanza della CGL nella quale sempre operato poi diventa consulente per la previdenza sociale e quindi questo è il suo ultimo impegno poi nel 1980 muore ecco questa è una figura di grande perché non è solo la donna deportata ma ha avuto un prima la deportazione e un dopo di estremo valore anche questo questo non perché lei sia più importante di altre deportate no ma perché è una figura nella storia complessiva del semplice del nostro paese fondamentale soprattutto per quello che riguarda la questione femminile poi verrà letto un brano di una sua testimonianza che non solo io ma riteniamo eccezionale poi capirete capirete anche chi era questa donna che cosa è riuscita a fare in un in un lager voglio solo prima di dare la parola a Annabella che credo che in particolare vi parlerà poi della Rolfi che è altra figura veramente di grande spessore che cosa come era considerata la donna nel Reich ma anche in Italia le differenze non erano veramente marginali Alfred Rosenberg che fu uno degli ideologi del nazismo anche se molti di gerarchi nazisti lo ritenevano un cretino ma comunque fu un ideologo soprattutto per quanto che riguarda anche le concezioni razziali bene Rosenberg sosteneva che la donna tedesca era un puro strumento di conservazione e di moltiplicazione della razza basta non aveva altro e ovviamente non era data la vita pubblica voi sapete che il nazismo proveria le donne ad esempio di frequentare università non se ne parlava e venne incoraggiato ma veramente in maniera spinta il matrimonio e veniva stabilito che alle giovani coppie veniva il Reich offrì dava un prestito di mille Reich ma non era una piccola cifra mille Reich ma allora alle giovani coppie questo non veniva dato però immediatamente veniva dato un quarto alla nascita di ogni figlio perché l'obiettivo era quello che le donne procreassero e quindi dovevano procreare pensate a Himmler che aveva sei figli e poi li gasò a Tulli li uccise tutti nel bunker a Berlino quando arrivarono i sovietici nei primi tre anni per questo contributo furono complessivamente versati soldi a 695 mila coppie il che vuol dire che buona parte della popolazione aveva aderito a questa indicazione dell'obbligatoria del partito Himmler fece istituire anche delle scuole per le spose del Reich qual era il compito delle spose secondo Himmler era dovero trasformarsi da segretaria in casalinghe di tutto questo sono stati trovati i documenti a Coblenza nel 2013 quindi pochi anni fa l'altra cosa Ravensbrück era un campo che per la parte amministrativa era gestita dalle SS uomini per tutto il resto guardia eccetera eccetera era gestito dalle ausiliarie delle SS che erano alle dipendenze dalle SS ma non facevano parte dell'organizzazione delle SS perché l'organizzazione delle SS non prevedeva assolutamente che ci fossero donne in questo corpo ne sono passate tante informazioni perché Ravensbrück fa anche il campo di formazione delle guardie ausiliarie noi al momento conosciamo il nome su ordino di 56 però erano 56 bestie proprio che poi lavorarono a Ravensbrück ma poi le ritroviamo ad Auschwitz le ritroviamo a Bergen-Belsen le ritroviamo a Mauthausen cioè le ritroviamo dappertutto l'ultimo caso l'abbiamo conosciuto proprio perché è nato il caso negli Stati Uniti questa è il Fride Lina Hutt che nel dopoguerra ha sposato un ebreo è emigrata negli Stati Uniti nascondendoci dietro il nome del marito finché poi è stata scoperta pare ma non c'è non c'è una certezza che comunque complessivamente furono 10.000 le ausiliarie a Ravensbrück alla data del 15 gennaio del 45 546 erano in servizio pensate che le deportate a quella data erano 46.000 nel campo quindi il fare la guardiana conveniva conveniva perché pensate che una guardiana ad esempio se era sposata guadagnava 135 marchi questo era il suo stipendio mensile al netto dei costi di vito alloggio che ovviamente non pagava e poi anche dei contributi che per legge doveva versare bene pensate che in quel periodo un operaio non specializzato guadagnava 76 marchi quindi la metà e oltretutto è stato trovato in un documento che dovevano compilare per l'arruramento nelle ausiliarie veniva detto precisato che per quello che riguardava il lavoro a Ravenbrook siccome l'impegno era solo quello di sorvegliare le prigioniere al lavoro all'interno e all'esterno del campo conoscenze particolari erano del tutto inutili quindi chiunque poteva fare questo ecco questo è perché se c'è una cosa che veramente sconvolge è conoscere quella che è stata la violenza delle donne sulle donne perché uno si immagina dei sessi gli uomini cattivi crudeli non furono da meno anzi in alcuni casi furono pensate solo che e poi ne parleremo quando una madre era costretta a uccidere il figlio veniva costretta a questo da una donna non veniva costretta da un uomo perché gli uomini erano solo l'amministrazione quindi io credo aver detto tutto e passo la parola a ah no c'è la lettura scusa scusa intervento di Bianca Paganini all'undicesimo congresso ANED sono un'ex deportata di Ravesbrook e accanto a me come deportate c'erano anche mia madre e mia sorella mia madre l'ho lasciata lassù è vero le donne difficilmente riescono a parlare della loro esperienza e forse questo è un male anche perché le donne delle donne poco si sa prima di tutto ci si chiede chi sono queste donne erano donne semplici contadine operai e studentesse qualcuna era già inserita nel mondo del lavoro ma la maggior parte erano casalinghe erano contadine però avevano una matrice comune allora quando la loro terra era stata invasa dai tedeschi immediatamente si sono uniti agli uomini e anche senza imbracciare il fucile li hanno seguiti in quella che era la loro lotta volevano la libertà della loro terra non sopportavano che i figli o i fratelli o i mariti dovessero essere presi deportati in Germania senza che nessuno facesse niente alcuni addirittura presero le armi in pugno e a fianco dei loro compagni salirono sulla montagna altre restarono nelle case aprirono le case ai partigiani le accolsero diedero loro un letto un cibo diedero loro i vestiti che gli altri uomini nella loro casa avevano lasciato negli armadi perché potessero scappare perché potessero togliersi la divisa che avevano addosso e salire sulla montagna molte di esse non sappiamo il numero preciso si calcola sulle mille mille e cinquecento vennero arrestate dalle SS ma prima delle SS c'erano i fascisti che guidavano verso le case per prendere le donne e portarle poi nelle carceri poi queste donne subirono la stessa sorte degli uomini accusate dei più grandi tradimenti vennero condannate a morte e poi questa condanna a morte venne trasformata nel campo di concentramento e partirono e arrivarono in un campo di sterminio nessuno di noi aveva mai sentito parlare di campo di sterminio vi arrivarono una sera verso il tramonto ci misero ci misero all'addiaccio nessuno di noi sapeva che cosa l'aspettava perché tra l'altro era un momento in cui il campo era completamente vuoto tutte si erano già ritirate quando la mattina noi ci svegliamo in questa piazza dove eravamo cominciamo ad avere sentore di quello che ci aspettava non lontano un carro sopra il quale parecchie cose cascavano e queste cose che cascavano venivano tirate su con un forcone chi disse che erano patate chi disse che erano stracci fino al momento in cui questo carro non arrivò davanti a noi erano cadaveri che nudi venivano portati al forno crematorio l'orrore ci prese in mezzo alla sporcizia coperte di pidocchi coperte di avitaminosi perché il tributo mensile che la natura richiedeva da noi era cessato e perciò i nostri corpi ne risentivano si affevolivano giorno per giorno veniva una avitaminosi spaventosa ma dovevamo continuare a lavorare e lavorammo però nel lavoro trovammo anche la forza di unirci e nacquero delle amicizie grandi profonde che durarono poi anche dopo e nacque anche quel desiderio che ci aveva spinto quando eravamo liberi alla ribellione e sabotammo alla Siemens avevamo imparato a saldare i fili in maniera tale che la saldatura durasse poco e in pezzi poco per volta li vedevamo ritornare i tedeschi erano arrabbiati mancava l'acqua mancava il cibo mancava tutto e noi deperivamo deperivamo tanto che alla fine non potevamo neanche più stare in piedi e tant'è alla fine della guerra ci mettemmo in marcia per otto giorni camminammo fino a che non trovammo gli americani una marcia della morte che vide ancora morire le nostre compagne che spossate avvilite per ciò che stava accadendo venivano ammazzate ancora lì dalle SS con un colpo alla nuca e vi posso assicurare che il ritorno a casa fu ancora più terribile è doloroso dirlo ma chissà perché se le donne allora e forse ancora adesso escono dalla loro casa quando ritornano qualcosa hanno subito qualcosa hanno fatto per poter ritornare e se non apertamente ma quasi velatamente ci tacciarono di essere prostitute però poco per volta la vita prese il sopravvento ma perché era giovane fu ancora difficile difficile lassù eravamo diventate vecchie prese dalla sofferenza e non avevamo più dialogo con quelli che erano giovani con noi con le nostre compagne con i nostri compagni di università con quelli con i quali eravamo soliti andare a ballare no non ci poteva essere dialogo loro sapevano ancora ridere noi a malapena si sorrideva allora ci chiudemmo al nostro silenzio nelle nostre case per leccarci quelle ferite che nessuno si preoccupava di lenire mi sembrava quasi che nessuno potesse credere e infatti anche adesso qualcuno dice come siete state disgraziate sarebbe poco essere disgraziate perciò continueremo forse a tacere non so però ce la mettiamo tutta adesso per insegnare come madri come insegnanti come donne ai nostri figli e vorrei che questo fosse capito ad amare quella solidarietà che noi avevamo capito lassù quella pace che noi eravamo riuscite a ottenere fra tutte perché lassù siamo sopravvissute solo perché abbiamo saputo darci la mano l'una con l'altra e non abbiamo mai guardato se la nostra vicina era protestante o ebrea o cattolica o atea oppure era slava se era croata o se era francese no eravamo soltanto donne e questo si vorrebbe che l'umanità capisse non so non so se ce la faremmo ma vedendo la società di oggi non ce l'abbiamo proprio fatta e questo ci dispiace tanto prima di dare rubo un minuto a Annabella perché noi abbiamo dedicato nella nostra intenzione questo incontro a Teresa Noce a Margarete Buberneum che non era italiana è una tedesca che ha una vicenda affatto particolare si chiama Buberneum perché lei in prime nozze aveva sposato il figlio del filosofo ebreo tedesco Martin Buber poi sposa Anthony Heinz Neumann è un esponente il marito e lei sono esponenti del comunismo tedesco ovviamente dovranno lasciare la Germania in Spagna e in Svizzera poi raggiungono l'Unione Sovietica e l'Unione Sovietica il marito scompare viene arrestato portato a Rubianca e non si sa che fine abbia fatto a sua volta lei viene arrestata e condannata a dieci anni da scontare in un gulag e viene inviata a Karaganda Karaganda era un gulag la cui estensione era pari a quella della Danimarca enorme certo non era strutturato come il lager nazista ovviamente no però pensate sulla base degli accordi Riementroff-Molotov lei viene riconsegnata con altri essendo tedeschi che siano rifugiati negli sovieti viene riconsegnata ai nazisti che chiaramente l'arrestano subito la portano a Ravensbrück a Ravensbrück forse perché sapevano da dove veniva dove aveva passato qualche anno immediatamente la nomino capo della baracca delle donne associali triangoli neri le donne sociali erano ritenute quelle che non avevano voluto sposarsi quelle che non avevano voluto sposarsi tutte quelle che andavano contro ciò che il regime voleva fossero le connotazioni femminili poi verrà passata a essere capo delle donne dei testimoni di Geova e lei sarà una capo brava non la capo che picchia e angaria le sue sottoposte quando verrà liberata due anni dopo ci sarà tre anni dopo verrà celebrato il processo contro i criminali di Raffer che diceva la testimonianza di una testimonia che diceva che è anche divertente perché durante l'interrogatorio le chiedono se Margarete Buberneum era stata una capocca a tiro no 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 questa ma lei era buona lei era brava e noi cercavamo di convincere a credere in Dio ma lei continuava a credere in Stalin era stata in un gulag continuava a credere e poi poi dopo ha continuato nel suo impegno e muore tre giorni prima della caduta del muro di Berlino sarebbe stato curioso sapere cosa cosa ci avrebbe detto nella sua testimonianza e anche e colpisce il fatto che quando lei arriva a Rabesburg pensa di essere arrivata in un bellissimo posto perché entra e vede delle piante vede una vogliera con degli uccelli poi passa quel muro e vede il bunker dove le persone venivano venivano uccise quindi capisce che anche lei ha passato la porta dell'inferno quindi anche per questa particolare storia gulag e lager l'abbiamo voluta ricordare grazie allora noi siamo molto orgogliosi quest'anno di aver dedicato così tante attività alle donne abbiamo iniziato il 27 gennaio voglio ricordare con una bellissima intervista a Vera Michelin Salomo un'altra deportata politica molto cara a noi e soprattutto ha dato un grandissimo contributo di idee di intelligenza di eleganza direi alla casa della memoria e della storia da che è stata fondata dunque io adesso inizierei un intervento dando alcune notizie generali su Ravesbruck e poi parlerò di Lidia Beccaria Rolfi i campi di destinazione delle deportate donne erano sostanzialmente due Ravesbruck in Germania e Auschwitz in Polonia pochi andarono anche a Bergen-Belze dall'Italia le deportate politiche furono 1514 le ebrei 4217 già dai numeri capiamo molte cose le politiche erano naturalmente quelle che avevano partecipato alla resistenza ma erano anche quelle che avevano partecipato agli scioperi del 1944 nelle fabbriche del nord Italia seguite poi altre categorie di deportate erano le disoccupate le artigiane le impiegate le intellettuali erano solo 5 allora e gli arresti più numerosi furono naturalmente quelli nella primavera del 1944 anche in coincidenza appunto con questi scioperi nel nord Italia il campo di Ravesbruck divenne operativo il 18 maggio del 39 ed era stato disegnato progettato per contenere 5000 prigioniere in realtà alla fine della guerra sembra che siano passate da Ravesbruck circa 123 mila donne e dal gennaio del 1945 poi con l'evacuazione dei campi dell'est man mano che avanzava il fronte ci fu un grandissimo sovraffollamento ovviamente perché sguarnivano i campi dell'est e quindi venivano inserite qui all'inizio diciamo della vita di questo campo per lo più le prigioniere erano tedesche poi le austriache in seguito il gruppo più consistente fu quello delle polacche e delle russe poi le francesi pensate che erano 8000 le francesi le donne politiche francesi il numero più consistente all'inizio era rappresentato dalle associali le accennava prima anche Aldo dalle criminali comuni e poi dalle testimoni di Geova e poi le donne che erano considerate diciamo colpevoli di rapporti con gli allogeni cioè quelle che avevano sposato o gli slavi o gli ebrei e quindi erano considerate elementi indesiderati naturalmente dal 42 si ebbe una vera e propria internazionalizzazione del campo le prigioniere venivano poi da diversissimi paesi dal 44 arrivarono molte donne che avevano partecipato all'insurrezione di Varsavia non del ghetto all'insurrezione vera e propria di Varsavia e poi arrivarono in massa le ebrei dall'Ungheria anche questa fu una grande deportazione gradualmente le donne con il triangolo rosso cioè le politiche diventarono il gruppo più consistente all'inizio erano per lo più aderenti al partito comunista o al partito socialista poi arrivarono donne da tutta Europa che avevano aderito a vari movimenti di resistenza uno dei gruppi più folti più importanti erano come dicevo prima le francesi tra le quali spicca la figura di Charlotte del Bo che ci ha lasciato un diario straordinario della sua deportazione prima ad Auschwitz e poi a Ravensbruck con loro entra subito in contatto Lidia Beccaria Rolfi la quale ci ha lasciato questa testimonianza ne parla in questo modo e lo leggo dice ho avuto questa grossa fortuna di arrivare in questo gruppo politicizzato di sinistra e lei specifica era un gruppo di sinistra ma non era ideologico per questo mi hanno attratto questo gruppo di donne nel gruppo tu non parlavi più della situazione contingente del campo ma parlavi di quello che l'aveva provocato parlavi di che cosa era avvenuto di come era strutturato di come si organizzava e imparavi anche i comportamenti in campo ecco a proposito dei comportamenti in campo mi piace ricordare un bellissimo straordinario film di Liliana Cavani del 1965 fatto in occasione del ventesimo anniversario della liberazione la donna nella resistenza in cui c'è l'intervista è un patrimonio questo film perché sono tutte le interviste alle donne che hanno fatto la resistenza e tra queste c'è appunto Lidia Beccaria Rolfi che fa una testimonianza molto intensa che fa una testimonianza molto intensa sui comportamenti nel Ravensbruck cioè come si doveva comportare lei viene rimproverata da una deportata francese perché affamata come era aveva cercato di saltare la fila per prendere la zuppa e quindi questa la rimprovera gli dice torna in fondo alla fila perché la solidarietà è la prima cosa che bisogna fare che bisogna avere come comportamento nel campo ecco nonostante la durezza della vita quotidiana nel campo ci fu una sorta di resistenza diciamo così una resistenza spirituale perché le donne cominciarono a scrivere poesie a disegnare a scrivere testi teatrali e poi c'era una lezione lezione di lingua di storia di geografia oltre naturalmente al solito scambio di ricette che come sapete era la fantasia per immaginare dei pranzi impossibili a partire dal 42 anche a Ravensbruck iniziarono le eliminazioni delle prigioniere che erano considerate quelle che erano considerate inutili inutili al lavoro naturalmente l'operazione in codice si chiamava 14F13 e la selezione avveniva appunto nei cosiddetti trasporti neri così venivano chiamate quelli che entravano in trasporti neri andavano alla selezione e venivano inviate nei centri appositi nei centri dove c'erano gli strumenti perché inizialmente Ravensbruck non aveva gli strumenti di eliminazione nel corso del 43 si era dotata infatti di molti campi satelliti vicini e poteva così inviare mano d'opera schiava femminile al lavoro quindi alla Siemens e la Siemens bisogna ricordare che aveva un'industria proprio vicino al campo di Ravensbruck ma non solo la Siemens e altre industrie e poi le fattorie naturalmente c'era anche il lavoro nelle fattorie si ricorda anche nel 45 il vicepresidente della Croce Rossa internazionale svedese riuscì a convincere Himmler a liberare alcune donne e vennero liberate alcune donne prima le scandinave poi fecero seguito le francesi le polacche le olandesi infine grazie all'intervento e alla mediazione del Consiglio ebraico mondiale fece liberare anche le ebree in totale nell'aprile del 45 vennero liberate circa 7500 prigioniere di cui mille erano ebrei quindi un numero che si è salvato Lidia veniamo a lei Lidia è un triangolo rosso la sua presa di coscienza politica era iniziata quando era un insegnante in una scuola elementare della Valvaraita lei come tutte le ragazze di allora aveva seguito il percorso educativo delle giovani italiane nella scuola fascista quindi era veramente sguarnita di conoscenze di consapevolezza politica e invece quando insegnava in questa scuola di Valvaraita comincia ad assistere alla fuga all'incontro alcuni ebrei che scappavano da Saluzzo e da Torino per mettersi in salvo e aveva sentito parlare del campo di concentramento di San Dalmazzo ecco così comincia la sua consapevolezza politica poi prende contatto con i partigiani diventa staffetta ma fa altro confeziona anche bombe a mano esplosivi e viene arrestata viene arrestata dalla Guardia Nazionale Repubblicana interrogata torturata e poi la Guardia Nazionale Repubblicana la consegna alla Gestapo e la Gestapo la trasferisce dal carcere di Saluzzo alle nuove di Torino e da lì parte per il trasporto per Ravensbruck parte il 26 giugno del 44 ci sono quattro giorni di viaggio nelle condizioni che potete immaginare e arriva Ravensbruck e lì arriva e inizia la sua diciamo rieducazione attraverso quello che i nazisti chiamavano ordine disciplina e pulizia questa è la prima rieducazione che riceve nel campo ogni infrazione naturalmente a questa triade veniva ovviamente punita poi dal lavoro di educativo arriva il vero e proprio lavoro quello produttivo che significa lo sfruttamento lo sfruttamento delle forze fino alla morte presso la Siemens o presso altre fabbriche o nelle fattorie nel libro le donne di Ravensbruck c'è Lidia ci ha lasciato una preziosa testimonianza del campo ci parla del comandante le SS ci parla dei suoi collaboratori ci parla delle sorveglianze donne sorveglianti donne di cui ci parlava prima Aldo le sorveglianti donne alcune erano addirittura volontarie altre erano reclutate tra gli strati sociali più infimi come le prostitute per esempio ma anche le donne della borghesia come le moglie o le vedove dei militari tuttavia nessuna di loro aveva possibilità di avere ruoli dirigenti perché come dire la gerarchia di genere veniva rispettata dai nazisti nell'autunno del 44 cambia il comandante di Ravensbruck dopo Browning che era stato il comandante fino al 44 arriva Svarzubberg che era stato il comandante prima di Birkenau e con lui inizia lo sterminio razionale sul posto quindi era l'esperto diciamo delle procedure la descrizione del campo di come ci viene restituita dallo sguardo di una politica questo è molto evidente nelle donne di Ravensbruck nella parte scritta da Lidia diciamo che le vicende del campo venivano sempre contestualizzate a quello che succedeva fuori alle vicende della guerra o allo spostamento del fronte verso ovest dopo l'avanzata russa o dopo lo sbarco in Normandia quindi un altro episodio fondamentale per le sorti della guerra poi con la caduta di Varzavia per esempio arrivano alcune migliaia di donne polacche perché arrivano queste donne polacche dopo la caduta di Varzavia la caduta di Varzavia vuol dire che Varzavia era stata occupata dalle truppe sovietiche arrivano perché erano state sollecitate e quindi indottrinate diciamo dalla propaganda nazista e scappavano perché avevano paura delle truppe sovietiche quindi arrivano a Ravensbruck per ragioni opposte da quelle per le quali erano arrivate le altre poi lei ci parla della solidarietà dell'organizzazione tra le deportate politiche e anche questo è una forma di resistenza dice lei il ruolo delle politiche è fondamentale fondamentale non solo per la difesa delle più deboli ovviamente c'è questa solidarietà ma anche per la diffusione delle notizie c'era una sistema di comunicazione clandestina delle notizie che naturalmente avveniva tramite le donne politiche che era fondamentale per diciamo lo stato d'animo delle deportate perché diciamo era un sostegno psicologico ovviamente le notizie buone come era stata la notizia della liberazione di Parigi quindi questa è stata l'euforia per le donne che avevano avuto ricevuto questa notizia ma oltre a questo naturalmente c'era il lavoro per il sabotaggio nella fabbrica e questo sabotaggio aveva due forme dentro la Siemens era un sabotaggio diretto cioè quello di danneggiare la produzione di fare in modo di rallentarla o di danneggiare il prodotto naturalmente ma c'era un altro tipo dice Lidia di sabotaggio che era quello di aiutare le operaie più deboli cioè quelle che erano sfinite che non ce la facevano a tenere i ritmi e quindi le sostenevano e quindi rallentavano la produzione dice Lidia questo era un altro modo per fare il sabotaggio dentro la fabbrica importante naturalmente come avevo accennato prima per Lidia è stato il rapporto con le francesi lei ne parla moltissimo di questo rapporto alle quali si avvicina dopo che le sente cantare in francese a bandiera rossa e quindi comincia con loro tutta l'educazione politica che lei non aveva avuto prima cioè completa la sua educazione politica dice lei parlavamo del comunismo del fascismo parlavamo molto della guerra civile in Spagna naturalmente perché molte di queste avevano avuto anche quest'altra esperienza ma la resistenza nel campo consiste anche in un altro modo consiste anche nel lavarsi pettinarsi tenersi in ordine e poi allenare la memoria allenare il cervello Lidia dice tutto questo serviva a renderci persone a recuperare la nostra dignità a recuperare il nostro aspetto in qualche modo il 30 aprile quando entra l'armata rossa nel campo ci sono rimaste solo 3.000 donne e sono quelle che non ce l'hanno fatta cioè sono quelle malate che non ce l'hanno fatta a seguire l'evacuazione del campo le famose marce della morte la marcia della morte che Lidia naturalmente è costretta a fare ma riesce in un momento di distrazione durante questa marcia riesce a nascondersi a buttarsi in un fosso e quindi a salvarsi cioè riesce a uscire da questa marcia e trova rifugio in una cascina in una cascina dove c'erano già dei rifugiati internati militari italiani ex prigionieri russi e trova rifugio qui viene nutrita sfamata rivestita e lei si presenta in questo modo a loro vi leggo la sua deposizione lei dice mi chiamo Lidia sono piemontese di Mondovì ho vent'anni li ho compiuti il mese scorso quando ero in Italia facevo la maestra elementare in un paesino di montagna sono diventata partigiana i tedeschi hanno arrestato e deportato in Germania in un lager dove eravamo tutte donne ecco questa è la sua presentazione poi passa dei giorni a dormire perché era veramente sfinita e da questa cascina lei recupera le sue forze piano piano viene recanicata su un altro camio inglese e condotta all'Ubecca all'Ubecca viene inserita in un nuovo lager il lager si chiama BLM che era stato un campo di prigionieri russi già internati questa è un'esperienza che vivono molte donne io ricordo lunedì scorso quando abbiamo ascoltato visto l'intervista a Vera Michelin che stava in un carcere tedesco e quando viene liberata anche lei finisce per primo in un altro lager che naturalmente non nega più un lager nazista ma comunque era un lager racconta anche questo è molto interessante lei racconta il rapporto difficile che ha con le deportate jugoslave per ovvie ragioni perché le jugoslave avevano combattuto a fianco a Tito contro i fascisti italiani fascisti italiani che le avevano arrestate e consegnate ai nazisti quindi le jugoslave le partigiane jugoslave odiavano le italiane quindi non volevano stare in mezzo a loro e di questo mondo di questo lager diciamo di questo campo dove trova rifugio c'erano anche delle ex ausiliare della Repubblica Sociale Italiana e vengono riconosciute questa testimonianza ce l'ho grazie agli studi di Alessandra Chiappano che ha lavorato molto sulla deportazione femminile che mi piace ricordare perché è morta qualche anno fa molto giovane queste donne della ex Repubblica Italo sono state riconosciute perché sotto la scella sinistra aveva un tatuaggio con il gruppo sanguigno un tatuaggio che gli avevano fatto fare i nazisti che avevano un po' la fobia di questi tatuaggi evidentemente ecco tutta la storia di questo difficile racconto è raccontato in un libro straordinario che si chiama L'esile filo della memoria che è il libro di il diario di Lidia Beccaria Rolfi un diario che inizia dalla liberazione dal campo fino al rientro in Italia ed è molto molto interessante ne consiglio la lettura perché è veramente un'opera fondamentale è un racconto quindi della lunga marcia verso l'Italia di quanto ci ha impiegato a tornare a casa e soprattutto è interessante perché lei racconta i diversi incontri le delusioni le discriminazioni che ha incontrato per strada che sembrano un po' il prezzo della libertà come se dovesse pagare un prezzo per questa libertà ma io credo che leggerlo oggi ci fa anche molto riflettere sull'Italia post fascista su che cos'era l'Italia post fascista e anche sull'oggi credo ci fa molto riflettere adesso vedremo anche meglio perché dunque c'era stata e questo in generale vale per tutte le donne deportate politiche molta incomprensione molta diffidenza che hanno incontrato a rientro in patria sia con lo sminuire e il sottovalutare la loro presenza il loro ruolo nella resistenza pensate che fino a pochissimi anni fa nella storiografia sulla resistenza si continuava a scrivere il contributo delle donne alla resistenza come se fosse un ruolo marginale mentre in realtà sono state protagonisti ancora prima degli uomini perché ricordo sempre l'8 settembre quando le donne hanno salvato gli uomini per la prima volta nella storia si è capovolto il ruolo sono state le donne che hanno salvato gli uomini e cioè quelli che erano l'esercito e che se non fossero stati nascosti diciamo rivestiti con gli abiti civili sarebbero stati deportati in Germania e quello che Anna Bravo chiamava il maternage di massa delle donne italiane ecco quindi dicevo non solo c'è stato questo tentativo di sminuire il ruolo delle donne ma c'è stato anche il sospetto sulla loro condotta no vista la promiscuità che avevano con i partigiani quindi anche questo è stato un elemento negativo tuttavia io credo che nell'esperienza raccontata da Lidia c'è un di più di crudeltà dietro alla cattiva alcolienza c'è anche la mancanza di consapevolezza di quanto è successo e soprattutto il disprezzo per i più deboli ecco lei descrive l'ultimo tratto questo è molto significativo l'ultimo tratto del suo lungo viaggio quando prende il treno finalmente è nel territorio italiano sale con altri deportati su un treno di terza classe c'era la terza classe allora che presto si riempie di altri civili e naturalmente non c'è il posto per tutti e quindi questi devono stare in piedi e lei scrive questi incominciarono a fissarci con sguardo malevolo poi uno uscì e tornò con il controllore che ci chiese il biglietto noi avevamo solo il lasciapassare inglese il controllore ci invitò a scendere e i viaggiatori applaudirono non avevamo diritto di occupare i posti a sedere noi che non avevamo pagato e in più essi dissero chi ci assicura che non abbiano pidocchi chissà da dove vengono ci sono i vagoni bestiame per loro ecco questo è il primo saluto che ha avuto dall'Italia oltre a questo ci racconta poi delle difficoltà di riprendere il posto di lavoro le disposizioni per le donne diciamo le deportate politiche non erano previste e la risposta alla sua richiesta è la seguente ve la leggo la circolare parla di internati di vedove di ebrei tu non sei ebrea puoi andare ecco vi faccio notare questo tu che del pubblico ufficio dove lei si rivolge le viene dato immediatamente il tu e me leggendolo mi ha fatto pensare a quante volte negli uffici pubblici oggi in Italia quando arriva un emigrato o un rifugiato gli viene dato del tu questo sempre succede ecco quindi vedete no l'Italia post fascista ma l'Italia della democrazia di oggi ecco la sua conclusione è molto amara ve la voglio leggere lei dice capì che non avrei potuto raccontare non si raccontano la fame il freddo gli appelli le umilazioni la disumanizzazione il crematorio che fuma l'odore di morte nei blocchi non avrei raccontato almeno per ora forse avrei parlato dell'evacuazione un avvenimento simile ad altri racconti di guerra come la ritirata da Caporetto o la ritirata di Russia che altri avevano già raccontato e poteva servire di confronto ecco lei dice questo è spiegabile queste sono le stesse parole che in altro modo aveva scritto Primo Levi quando dice quando voi dite fame non è questo che io voglio intendere per quella fame e lei dice forse potrei parlare del rientro dell'evacuazione perché questo è un avvenimento che anche altri hanno vissuto ecco lei ha molte parole di stima per Charlotte Delbo come avevo detto all'inizio questa donna straordinaria deportata politica francese allora io vorrei concludere questo mio intervento con poche righe dal diario di Charlotte Delbo scritto in riferimento non a Ravensbruck ma ad Auschwitz lei dice ma c'è una stazione dove coloro che arrivano sono coloro che partono una stazione dove chi arriva non è mai arrivato da cui quelli che sono partiti non sono mai tornati è la stazione più grande del mondo arrivano a questa stazione venendo da ogni dove arrivano dopo giorni e notti avendo attraversato interi paesi arrivano con i figli anche più piccoli che non avrebbero dovuto prendere parte a questo viaggio la stazione non è una stazione è la fine delle rotaie guardavo e la desolazione che li circonda li sconcerta la mattina la nebbia nasconde delle padudi la sera i riflettori illuminano il filo spinato con una tentezza da fotografia astrale temono che li condurranno là e hanno paura la notte aspettano il giorno con i bambini che pesano tra le braccia delle madri aspettano e si interrogano il giorno non aspettano le file si mettono in marcia immediatamente prima le donne con i bambini sono i più stanchi gli uomini dopo anche loro sono stanchi ma sollevati che si facciano passare per primi le donne e i bambini perché è giusto far passare per primi le donne e i bambini l'inverno sono aggrediti dal freddo soprattutto quelli che vengono da Candia per loro la neve è una novità l'estate il sole li acceca non appena escono dai vagoni bui sprangati alla partenza dalla Francia dall'Ucraina dall'Albania dal Belgio dalla Slovacchia dall'Italia dall'Ungheria dal Peloponneso dall'Olanda dalla Macedonia dall'Austria dall'Herzegovina dalle rive del Mar Nero dalle rive del Baltico dalle rive del Mediterraneo dalle rive della Vistola vorrebbero sapere dove sono non sanno che questo è il centro dell'Europa cercano il nome della stazione ma una stazione che non ha nome grazie prima di dare la parola a chi leggerà il bambino morto che è la testimonianza di Savina Ruppel siccome prima ho detto velocemente tra i 30 secondi cosa diceva Rosenberg delle donne bene per i nazisti le donne di Ravensbrück erano chiamate Schimstuck ovvero sia pezzi di immondizia questo era poi è stata citata la deportazione delle donne da Varsavia quando queste donne arrivarono furono messe in una in una tenda non c'era spazio furono messe in una tenda 40 metri per 10 alta 3 metri come piove era un acquitrino era diventato un acquitrino e queste donne erano lasciate parecchi giorni senza cibo Rosa Cantoni le vide più avanti leggo proprio tre righe di queste donne collocate in questa tenda era una nuova tenda era più grande ma era identica entriamo in quella tenda ricordata con terrore da chi l'ha vista vediamo con stupore un mucchio di donne vestite di scuro e tutte mucchiate una sopra l'altra saranno state una cinquantina queste povere sfortunate donne probabilmente ebrea di chissà quale paese erano in condizioni tali che si capiva che erano state abbandonate lì senza mangiare senza bere destinate a morire di nedia di freddo e di abbandono evidentemente non potevano liberarsi anche se erano in molte perché erano allo stremo a un certo punto arrivano due sorveglianti con una pentola di patate lesse probabilmente destinate a noi erano quelle arrivate dall'Italia che erano state messe lì in attesa di essere assegnate poi ai vari blocchi due di queste donne che erano di so e non sopra impressionanti a vedersi bianche come la carta hanno visto la pentola e hanno allungato le braccia rovesciando le patate sul pavimento queste due donne non potevano stare in piedi quindi si sono allungate sul pavimento e sono arrivati ad afferrare qualche patata non potevano neanche aprire le mascelle tanto questo è un indurito della fame però all'istinto era quello di mangiare e allora spingevano con le dita il cibo nella bocca perché non riuscivano a masticare quelle sotto usavano le mani per tirarle fuori dalla bocca delle compagne è come se le avesse fotografate e mi sono rimaste sempre nella mente dico questo perché a Raverbo fu applicato proprio dallo stesso medico Van Müller la morte per fame che aveva sperimentato durante l'operazione T4 cioè lo sterminio dei disabili dovete sapere che tutti quelli che operarono lo sterminio dei disabili li troviamo nei campi di annientamento tra Brink, Belzec, Mattau, Birkenau, Maidane e a Raverbo tanto è vero che a Raverbo quando decideranno l'eliminazione con effetto retroattivo disse Imler dovevano morire 2000 al mese con effetto retroattivo di 6 mesi quindi 12.000 dovevano essere eliminate a condurre questa operazione arrivò Otto Mol da Birkenau Otto Mol aveva gestito tutto lo sterminio degli ebrei ungheresi quindi questo anche per capire adesso mi pare che questa è la testimonianza di Savina Ruppel una slovena Savina Ruppel Ravensbruck matricola 9 1 3 2 9 in febbraio sono stata trasferita al bloc 32 sapete che cos'era il bloc 32 era il blocco delle donne incinte per le donne incinte infatti avevano riservato due blocchi il 32 e il 34 isolati dal resto del campo con un filo spinato le due baracche rispetto alle altre erano messe meglio erano non so come dire meno rovinate il blocco era tutto pieno non si respirava sui letti a castello si intravedevano le mie disgraziate compagne buttate là senza lenzuola e senza niente il solo pensiero delle condizioni nelle quali erano abbandonate ancora adesso mi fa male come se fosse successo ieri a un certo punto incominciò il travaglio e mi portarono al riever revier una specie di ospedale mi sentivo male ma non riuscivo a dare alla luce il bambino la notte niente il giorno dopo niente il bambino non nasceva e allora decisero di farmi delle iniezioni ero sfinita e pregavo di morire non ne potevo più avevo dei dolori atroci mi hanno fatto una specie di iniezione lombare per provocarmi il parto ma perché non l'hanno fatta subito questa iniezione nel primo giorno ancora adesso me lo chiedo e non trovo risposta così il mio bambino è nato vivo Danilo voglio che il suo nome sia Danilo era mercoledì 14 gennaio 1945 dopo aver partorito mi hanno dato una camicia è tremendo in realtà non era una camicia ma una canottiera da uomo lunga e grande nient'altro mi hanno dato nemmeno un paio di mutande sono rimasta due giorni in infermeria cosa hanno fatto dopo solo due giorni che ho data la luce Danilo mi hanno messo con una russa e un'altra non so di che nazionalità fosse su un carretto assieme al mio bambino i figli delle mie sventurate compagnie erano già morti eravamo saliti su quel carretto e tre prigionieri con fatica lo trascinavano avevamo una sola coperta mentre l'aria gelava intorno a noi ci hanno portate di nuovo al bloc 32 quello delle donne incinte per Danilo non mi avevano dato assolutamente nulla nemmeno uno straccio il pezzo di flanella che mi aveva procurato Pierina era una manna per me faceva un tal freddo che ancora oggi non mi spiego come quei bambini siano riusciti a sopravvivere anche per soli pochi giorni da quanto ne so solo un bambino è riuscito a vivere sei settimane ed era il figlio della russa e doveva essere assai forte dopo 13 giorni o 14 giorni Danilo è morto era il 28 febbraio però l'ho tenuto ancora un giorno con me quasi non dava più segno di vita da due giorni ma sapevo che se l'avessi consegnato sarei stata mandata al bloc delle selezioni allora ho aspettato un paio di giorni non avevo niente da dargli da mangiare niente cosa avevo? neanche l'acqua a me davano la zuppa immonda ma a lui cosa potevo dare? non avevo niente neanche acqua avevo al seno niente e questa creatura ai primi giorni piangeva e non aveva nulla non avevo nulla per cambiarlo avevo solo quei due stracci lo tenevo vicino a me cercavo di coprirlo e di scaldarlo come potevo a un certo punto era da almeno un giorno e mezzo che non sentivo più lamento né apriva bocca insomma da un giorno e mezzo non dava più segni di vita e ho cominciato a essere ha cominciato a essere freddo 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 e duro proprio si sentiva che era morto prima di partorire avevo già visto i bambini delle altre disgraziate come me morti depositati nudi là per terra nella washroom e io che volevo rivedere ancora una volta il mio Danilo con la scusa che mi dovevo lavare sono andata proprio nella washroom che era sempre nello stesso bloc così l'ho visto Danilo e l'ho guardato era diventato come un vecchio di cento anni gli avevano tolto quei due miserabili stracci perché le SS controllavano quanti bambini erano morti e dovevano essere nudi quando li contavano anche i bambini avevano la loro matricola sulla manina una specie di nastrino con il numero anche i bambini dovevano rispondere all'appello era là per terra nudo uno straccetto di pelle raggrinzita destinato a essere buttato via come un rifiuto non ho neanche una tomba per piangerlo anche questo mi hanno negato quegli assassini e così sono andata via sono andata a vederlo ancora una volta il mio Danilo Ambra Laurenzi che è la figlia di Mirella Stazione non solo è una nostra iscritta dell'anno ovviamente ma è la presidente del comitato internazionale di Ravensbrück è la prima italiana il primo italiano comunque che diventa presidente di un comitato internazionale questa è una cosa molto importante lo è stato sempre ma in questi momenti in cui i vari lager subiscono quella che io dico tra virgolette delle aggressioni che mutano anche molto la fisionomia della natura del lager essere a presiedere è importante voglio solo perché io so che lei vi parlerà anche degli esperimenti che furono condotti sulle donne leggervi un documento ufficiale e la lettera dell'SS Victor Brax segreteria del Führer al Reich Führer SS a Eric Himmler la data è del 23 giugno 1942 e grazie signor Reich Führer secondo me approssimativamente su circa 10 milioni di ebrei europei almeno 2 o 3 milioni sono donne perfettamente idonee al lavoro erano pidocchie però in quel momento ormai anche le braccia delle donne servivano considerando le eccezionali difficoltà che dobbiamo affrontare a causa della questione del lavoro sono dell'opinione che queste 2 o 3 milioni di donne dovrebbero essere mantenute in vita mentre la norma finiva immediatamente il gas ciò naturalmente può essere fatto se contemporaneamente saranno rese incapaci di procreare le avevo reso noto circa un anno fa che alcune persone sotto la mia supervisione hanno completato degli esperimenti per il raggiungimento di questo risultato vorrei tornare ancora sull'argomento la sterilizzazione che viene normalmente usata su persone con malattie genetiche trasmissibili è in questo caso fuori questione sia perché si tratta di un procedimento lungo sia perché è notevolmente dispegnoso la castrazione attraverso la GX invece non è soltanto relativamente poco costosa ma può essere condotta su centinaia di persone in brevissimo tempo io credo che sia poco importante al momento stabilire se le persone trattate si renderanno conto di essere state castrate nel giro di qualche mese o di qualche settimana nel caso in cui lei signor Reichfuere dovesse decidere di scegliere questo sistema per il mantenimento del materiale da lavoro lo sottolineo materiale da lavoro il Reichfuere Buller che era poi stato uno dei dirigenti del P34 stava pronto a fornire ai dottori e altro personale necessario al compimento di questo lavoro inoltre mi ha chiesto di informarla che io stesso sia in grado di fornire l'equipaggiamento necessario in tempi estremamente brevi in una lettera precedente del marzo Braque segnalava intanto la quantità di radiazioni che devono essere fatte per sterilizzare un uomo o una donna che variava due minuti necessari per l'uomo o tre minuti necessari per la donna segnalando anche che altri tessuti potevano rimanere danneggiati ma soprattutto facendo sapere che in 20 impianti nel Reich ciascuno del corso tra i 20 e i 30 mila marchi si sarebbero potute praticare dalle 3 mila alle 4 mila sterilizzazione giornaliere documento che è stato presentato al processo dei medici nazisti che sono venuti nel 1947 quindi come vedete erano esperimenti sì bestiali ma commissionati voluti perché funzionali a ciò che il Reich voleva le popolazioni dell'Europa orientale ridotte al 30% dalla loro consistenza popolo schiavo che doveva lavorare nel grande Reich millenario composto da 100 milioni di guerrieri quindi non pensiamo come a volte ma è comprensibile facere esperimenti così no erano finalizzati e molti di questi medici erano pagati dalle industrie farmaceutiche a Auschwitz Auschwitz 1 il dottor Witz prendeva un ampio l'autostipendio ogni mese per condurre esperimenti su medicinali della Bayer probabilmente qualcuno lo stiamo usando ancora ora e così Clauber che voleva sterilizzare un metodo rapido veloce perché doveva diventare il Reich millenario doveva sterilizzare Mengele che invece studiava la gemellarità perché era amato no nel Reich era in flessione la natalità e quindi bisognava aumentare la natalità e che meglio che avere parti gemellari poi aveva le sue passioni gli occhi azzurri e queste cose ma la maggior parte di quelle che ha ucciso era per scoprire i meccanismi delle gemellarità quindi mattino grandi criminali sì sì infatti infatti è proprio è proprio così esperimenti medici dal 42 a Ravesbrook ci sono questi esperimenti medici nel reviere che come come diceva Pavia hanno delle finalità molto molto precise uno degli esperimenti più diffusi è stato quello che è stato fatto sulle polacche soprattutto polacche cioè su un'ottantina di deportate 76 almeno erano polacche veniva fatto questo veniva fatta un'incisione sulla gamba e nella gamba venivano inseriti oggetti di ferro qualsiasi cosa virus o quant'altro venivano così malamente ricucite fasciate e poi rimandate per poi ritornare riaprire perché tutto questo anche qui la finalità era molto chiara i soldati erano al fronte e quindi quando esplodeva una granata quando si trovavano in situazioni al fronte o comunque di guerra con pericolo di essere colpiti direttamente da granate da colpi di mitre che cosa succede? succede che nel corpo si inseriscono dei frammenti di ferro e si inseriscono anche altri elementi che sono nell'ambiente questo è normale questo provoca una cancrena gassosa e dunque qual era l'obiettivo? era quello di trovare l'antidodo alla cancrena gassosa quindi bisognava inserire nelle donne quello che teoricamente potenzialmente verosimilmente entrava nel corpo dei militari e di conseguenza avrebbero trovato l'antidodo per curare questa cancrena naturalmente potete immaginare queste donne a cui venivano sfasciate venivano iniettate c'era la prova di questi antidodi quindi è inutile dire che ne sono morte anche per tutta questa operazione che è stata fatta un altro esperimento che è stato fatto sempre finalizzato a in questo caso alle donne tedesche era la ricerca sul cancro alla cervice uterina proprio perché come si diceva prima l'obiettivo delle donne tedesche era quello della procreazione era quello di creare più possibili figli di pura razza ariana e quindi è chiaro che nel momento in cui ci fossero dei problemi legati all'utero legato a eventuale sopravvenienza di un cancro alla cervice uterina si doveva avere anche qui la cura e dunque veniva iniettato nelle donne venivano praticamente fatti esperimenti in questo senso questo sono soltanto due esempi gli esperimenti sono stati tanti sono stati aborti esperimenti sulla sterilizzazione e così via questo così diciamo per completezza quindi è tutto molto scientifico tutto molto chiaro tutto molto programmato questo è il discorso però vorrei riportarvi un attimo ad alcuni aspetti della deportazione femminile e per farlo voglio partire dal secondo incipit della poesia di Primo Levi che tutti noi conosciamo se questo è un uomo il secondo incipit dice se questa è una donna che forse si conosce meno no? perché è soprattutto la prima parte però dice così considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome senza più forza di ricordare vuoti gli occhi è freddo il grembo come una rana d'inverno Primo Levi è riuscito con queste quattro righe a raccontare completamente che cosa è stato l'inferno del lager per le donne perché qui c'è dentro tutto analizziamo le parole senza capelli e senza nome significa perdere l'identità e senza capelli per una donna non era un dettaglio dobbiamo fare lo sforzo di tornare agli anni 40 gli anni 40 in cui nell'immaginario collettivo il ruolo della donna l'abbiamo detto lo diceva anche prima Pavia il ruolo della donna era quello di crearsi una famiglia e quindi di procreare dunque l'aspetto fisico aveva uno suo valore non piccolo i capelli per una donna sono sempre stati un elemento importante e se uno credo anche oggi non sceglie di di raparsi a zero come può succedere in alcuni casi se qualcuno ti costringe a raparti a zero credo che anche oggi cambi molto così come se oggi qualcuno ti costringe con la forza a spogliarti completamente nuda per quanto il livello del cosiddetto pudore oggi può essere cambiato ma il vestito è qualcosa che protegge la nostra identità quindi quando quando Primo Levi dice senza capelli e senza nome cioè perdere completamente l'identità il nome non c'era più esisteva un numero questo bastava numero peraltro sempre detto in tedesco che dovevi capire sempre poi dice senza più forza di ricordare facciamo attenzione a queste parole perché uno dei ruoli della donna storicamente è stato anche il ruolo di trasferimento della memoria a livello familiare la memoria delle donne ha avuto un ruolo importante nella società qui che cosa succede? succede che tutti i rapporti parentali tutte le relazioni parentali saltano completamente prima abbiamo sentito la bellissima lettura sulla storia di Savina Savina dice a un certo punto io non volevo uscire dal bloc perché mi avrebbero mandato alle selezioni e si tiene il figlio morto due giorni stretto a sé ma lei lo dice non per amore del figlio ma per paura di ritornare all'appello e dice anche non giudicatemi perché i miei aguzzini mi hanno ridotta così ma avviene anche l'inverso quindi non solo il rapporto madre figlio ma anche figlio madre prima si parlava di Bianca Paganini Bianca Paganini è donna straordinaria veramente straordinaria che ci manca molto Bianca ha raccontato e lo racconto perché lei lo raccontava ai suoi studenti raccontava questo fatto lei era arrivata al campo così come ha detto con la sorella e la madre però mentre lei e la sorella insieme anche a mia madre e mia nonna sono entrate a lavorare in Siemens la madre essendo più vecchia di mia nonna e comunque anziana è rimasta al campo grande da sola quindi non ce l'ha fatta è morta un giorno durante l'appello Bianca sente chiamare il suo numero ed è terrorizzata perché una cosa di cui poco si parla ma che è importantissima è capire che lì non potevi sapere che cosa succedeva cinque minuti dopo cioè non avere la cognizione della tua giornata del tuo tempo della tua ora della tua mezz'ora dopo questa è una cosa incredibile se voi ci pensate e quindi lei sente chiamare il suo numero esce dalla fila terrorizzata perché assicura che avrebbe avuto una punizione e la Auserin che la chiama non si è mai capito perché lei dice che sua madre era morta non l'avevano mai fatto quindi non si capisce perché ma l'imprevedibilità era era normale le cose senza alcun scopo e senza alcune ragioni beh Bianca racconta che quando l'Ausserin le dice questo lei tira un sospiro di sollievo io posso solo immaginare avendo conosciuto bene Bianca che cosa è successo dopo quando poi è tornata quando poi c'è una sua fotografia incredibile quando torna poi al campo nel 59 perché lì ha lasciato sua madre ma la sua reazione è stata quella allora quale devastazione terribile è questa se salta comunque qualsiasi parametro di relazione abbiamo visto padre madre figlia figlia madre non cambia di storia ce ne sono ce ne sono tante e poi appunto primo Levi dice vuoti gli occhi e freddo il grembo perché appunto la sterilità la sterilizzazione tutto quello che può essere di più di più intimo per la donna la perdita immediata per tutte del ciclo mestruale quindi anche lì una devastazione da un punto di vista ormonale cioè la donna perde progressivamente tutti i suoi parametri fisiologici psicologici e sociali quindi potete immaginare poi quanto è stato duro cercare cercare di recuperare questo aspetto tanto più che come si diceva al ritorno le cose non sono andate molto bene perché prima di tutto per le politiche e questo valeva anche per le partigiane ma a maggior ragione per loro che venivano da ben altra esperienza perché ti sei impicciata di qualcosa di cui non ti dovevi impicciare la politica la politica tu sei una donna quindi sono sentite colpevolizzate nonostante abbiamo detto prima il valore determinante delle donne durante la resistenza perché il lavoro di raccordo che hanno fatto le donne è stato fondamentale però non si dovevano impicciare perché non era quello il ruolo della donna e poi come dicevamo se sei tornata evidentemente hai fatto qualcosa che forse non dovevi fare perché se no non saresti tornata allora le donne hanno scelto di non parlare questo è anche uno dei motivi per cui di deportazione femminile si è parlato poco per 50 anni la maggioranza non ha parlato perché sentivano l'offesa sull'offesa a me viene sempre in mente un'immagine quando quando dico questo l'immagine è questa 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 storia terribile è stata come una parentesi allora immaginate che di stare al lavello a lavare i piatti suonano alla porta bussano alla porta come è successo per mia madre e mia nonna mia madre va a aprire si trova uno della gestapo davanti col mitra che gli dice raus fuori così come eri uscivi allora immaginate questa donna al limite mia nonna che invece stava lì lavando i piatti lascia tutto così viene arrestata viene trasferita in un campo di smistamento viene portata a Ravesbrook passa un anno e mezzo tra andata ritorno e detenzione ritorna e si rimette a lavare quei piatti che aveva lasciato cioè è una parentesi che si è chiusa allora riflettiamo bene su questo aspetto perché questo è un aspetto davvero terribile cioè l'elaborazione di questa esperienza non è stata possibile e questo naturalmente apre tutto un altro argomento che un giorno spero si farà un incontro appositamente della relazione con le seconde e terze generazioni ma prima diceva Aldo parlava appunto del comitato quindi vorrei dirvi qualche cosa legata legata al comitato perché il comitato internazionale di Ravesbrook è una diciamo un'organizzazione che nasce subito dopo non proprio come comitato come adesso ma le ex deportate del campo di Ravesbrook decidono di riunirsi perché vogliono mantenere viva questa esperienza e vogliono che non sia dispersa soprattutto la loro esperienza e la memoria delle compagne che sono morte nel 48 si crea un primo gruppo operativo che chiede che venga costruito un memoriale al campo ed un museo che racconti la loro storia nel 59 viene realizzato questo memoriale premetto che prima mi pare è stato detto il campo è stato occupato dalle truppe sovietiche dopo la guerra che si erano acquartierate nel campo quindi fuori dal campo c'è il museo che è stato realizzato all'interno della comandatur e la riva del lago su cui c'è il memoriale nel 59 viene inaugurato il memoriale e il museo passano ancora alcuni anni e nel e finalmente nasce il primo il primo comitato con la partecipazione nel 65 quindi nel ventennale della liberazione di 11 paesi il comitato ha lo scopo come hanno detto le prime deportate di mantenere conservare il luogo quindi proteggere un luogo della storia che ha il valore che ha per tutto ciò che contiene anche se il campo è rimasto sostanzialmente vuoto dentro e la memoria delle compagne ora naturalmente chiaramente sono passati quest'anno celebriamo 75 anni dalla liberazione quindi è evidente che ormai le sopravvissute poche ce ne sono e quelle che sono presenti al comitato sono tre una è nata in campo eugenia russa è nata in campo stella eugenia ucraina stella russa aveva 4 anni la più grande polacca ne aveva 12 queste sono ancora presenti all'interno del comitato le altre sono tutte seconde o terze generazioni allora qual è oggi perché noi dobbiamo rapportarci ad oggi rispetto a questo diciamo a questa attività perché questo ci aiuta anche a capire che cos'è la memoria oggi prima diceva Aldo io sono la prima italiana ma sono anche la prima di seconda generazione all'interno del comitato e questo vi dico questo perché secondo me è importante riflettere su alcune cose questo passaggio non è indolore per un motivo semplice perché ciò che veniva accettato come emanazione diretta dall'esperienza delle deportate quando la presidente era una deportata con l'autorevolezza che aveva la sua storia non è più uguale a ciò che può essere accettato oggi ovviamente è giusto così ma questo ci pone una riflessione noi abbiamo testamenti morali abbiamo delle linee guida che ci hanno lasciato le deportate però ci siamo resi conto che col passare del tempo alcuni significati e anche alcune parole sono cambiate cioè hanno assunto un senso diverso e dunque come ci dobbiamo porre rispetto a questo diverso senso questa è la domanda che noi ci dobbiamo fare oggi 2020 in questa Europa perché se è vero come è vero che l'Europa dovrebbe sorgere dalla terra dei campi perché da lì da lì sono praticamente venuti fuori dalla terra dei campi sono nati i diritti i diritti e il concetto di parità il concetto di uguaglianza tra diversi da lì sono arrivati e dunque è importante che questo principio resti saldo ma dobbiamo anche capire il senso delle parole se oggi ci rendiamo conto che anche la parola antifascismo ha significati diversi a seconda delle nazioni questo pone un problema a tutti noi e una riflessione a tutti noi noi adesso ci sono 14 paesi rappresentati è una piccola Europa è una piccola Europa con problemi che tutto sommato ritroviamo anche nella grande Europa e dunque è importante riflettere sulle parole sul senso della storia che vogliamo trasferire e riportare per questo il passaggio non è indolore e il passaggio non è facile ma ma è una cosa su cui ci dobbiamo impegnare tutti perché è nel comportamento quotidiano che noi possiamo salvaguardare quei principi quei valori che sono nati dai campi che sono dei principi basilari per una convivenza civile indipendentemente dalla storia di ognuno quindi ecco io volevo lasciarvi questa questa riflessione prima anche quello che è stato letto di Bianca in fondo diceva questo noi eravamo lì qualsiasi nazionalità qualsiasi religione chiunque di noi qualunque fosse stata la nostra storia eravamo lì è là lì che deve nascere l'Europa perché lì ripeto c'è l'uguaglianza tra diversi e questo è il punto però dobbiamo ragionare bene sulle parole e capire come il comportamento quotidiano è importante per dare senso a queste a queste parole e quindi insomma senza la memoria e senza la memoria attiva semplicemente smettiamo di esistere ecco questo direi che è la cosa è l'insegnamento che che le sopravvissute e le ex deportate ci hanno lasciato grazie tra pochi minuti chiudiamo con la lettura di una testimonianza tratta dal libro di memoria di Teresa Noce un fatto per me stupendo e stupefacente ma volevo solo dire un paio di cose velocemente intanto molte volte si dice che nei laghi si facevano lavori inutili beh ad esempio all'interno di Ravensbruck c'era una una saltoria in italiano in un solo anno le SS ricavarono 8 milioni 400 mila marchi dal lavoro di queste donne che naturalmente ovviamente non vedeva neanche un centesimo di marchi e a fianco c'era lo stabilimento della Siemens dove lavorò la madre di di Ambra e anche quello rendeva le SS perché sì l'oro i gioielli ma gli affitti che pagavano le aziende tedesche non erano poca cosa vantaggiosi per le aziende perché non erano mai più di un terzo della paga di un operaio ma erano erano soldi l'altra cosa abbiamo detto appunto del bambino morto di Savina Ruppel siccome si fa il giorno della memoria ne lo ricordiamo tutti vorrei ricordare anche una Roma italiana Giovanna Odorovic che mise al mondo due gemelli il 19 novembre del 1944 il maschio nacque e già morto la femmina morì dopo tre settimane perché fu lasciata morire di fame infine concludendo vorrei dire questo faccio un raffronto alcune supersti francesi di Ravensbrück sono state insegnate della legione d'onore e alcune sono sepolte al patio come figure gloria della patria non mi risulta che in Italia una nostra superstite di Ravensbrück o anche di Ausdussi abbia mai avuto un minimo di onore al massimo diceva ma prendi una pensione prendi un assegno di benemerenza evidentemente hanno saputo capire meglio che cosa chiudo e lascio ho ricordato Margherita Bubernoi Margherita Bubernoi ma l'importante è anche sapete perché perché ci ha raccontato come è morta Milena di Gesca la Milena di Kafka che muore a Ravensbrück di Nefrite lei ha scritto questo libro Milena l'amica di Kafka in cui ci racconta la tragedia di questa donna che fino all'ultimo cerca di resistere con Margherita Bubernoi dice ma quando usciamo scriviamo un libro su tutta questa cosa muore e il libro lo scriverà Margherita Bubernoi grazie di Teresa Noce rivoluzionaria professionale La Pietra 1994 per l'8 marzo non potevamo organizzare una festa perché eravamo ormai troppo deboli e affamate quindi decidemmo di tenere una conferenza al campo le politiche che conoscevano un po' di storia del movimento operaio internazionale erano una minoranza molte erano però coloro che avevano fatto parte della resistenza lavorando e sacrificandosi per la libertà la conferenza doveva spiegare alle une e ricordare alle altre che donne di tutti i paesi e in tutti i secoli avevano lottato per la libertà ma anche una semplice conferenza non era tanto facile da preparare anzitutto chi doveva parlare e cosa avrebbe detto anche se la riunione veniva organizzata nel nostro blocco bisognava cercare di farvi partecipare almeno qualche deportata degli altri blocchi inoltre bisognava dire cose che non interessassero solo ad una minoranza ma a gran parte delle donne in tutto il campo l'incarico di tenere la conferenza fu affidato a me le compagne dissero che erano più indicata nonostante le precarie condizioni di salute ed essendo stata esonerata dal lavoro avrei anche avuto più possibilità di prepararmi da prima le compagne chiedevano una conferenza solo per noi cioè se non proprio per le comuniste riservate almeno alle politiche mi opposi risolutamente se volevano fare una conferenza per l'8 marzo questa doveva interessare tutte le deportate fossero no politiche era giusto parlare delle donne di tutti o almeno di molti paesi e non solo delle francesi vi erano state eroine polacche inglesi russe spagnoli italiane ebrei e americane era importante che tutte sapessero che in ogni secolo vi erano state donne che avevano lottato per difendere il proprio paese la propria religione il pane e il lavoro per tutti la pace la libertà da ogni oppressione contro la dirannia e lo sfruttamento perché dovevano parlare oltre di Lucrezia e di Giovanna d'arco anche delle serve della gleba insorte con la jacquerie del 1358 e delle calzettaie della rivoluzione francese delle comunar di Parigi e delle setagliole di Lione delle suffragette inglesi e delle martri di Chicago delle rivoluzionari russe e delle insorte a Torino delle scioperanti contro i padroni e contro i fascisti trovai più aiuto di quanto avessi sperato tutte volevano darmi in qualche cosa del proprio paese di persone conosciute di episodi di lotta o di quello che ricordavano dalle lezioni di scuola e con più apertura mentale e meno conformismo di quanto mi attendessi la permanenza al campo la lezione delle sofferenze sopportate in comune forse non erano state inutili poteva anche essere che appena libere quelle donne tornassero a vivere come prima ma era molto più probabile in ognuna qualche cambiamento teniamo la conferenza la sera dell'8 marzo del 45 appena suonato il silenzio salì sul giaciglio più alto del castello posto in mezzo al blocco mentre le deportate si affollavano sugli altri pagliericci e incominciai il mio discorso ogni tanto mentre parlavo si apriva silenziosamente la porta e facevano capolino di portate degli altri blocchi con la scusa di andare al gabinetto erano riuscite a sgusciare fuori e venivano anch'essi a sentire la conferenza dell'8 marzo parlai a lungo delle donne di tutto il mondo come mi ero proposta parlai delle sante e delle schiave delle operai e delle contadine delle intellettuali e delle scienziate delle analfabete e delle artiste continuai a parlare finché caddi stremata sul giaciglio che mi aveva ospitata credo di poter affermare che questo è stato un bel seme per l'Europa no perché lì erano tutte donne erano tutte uguali dipendentemente dalla lingua poi siccome ho detto questa è una cosa che mi dà fastidio che le deportate italiane non abbiano avuto particolari riconoscimenti sì oggi Liliana Segre ma 75 anni dopo 75 anni dopo la regione d'onore e sepolte al Pantheon quindi noi continueremo come ANET come IRSI come associazioni dell'antifascismo dell'esistenza dell'importazione affrontare questo tema perché altrimenti è come se una pagina della storia non esistesse poi ho capito perché anch'io l'ho conosciuto tardi perché Giuliette Greco non voleva cantare in Germania la madre e la sorella di Giuliette Greco erano a Ravensbrück la nipote di De Gaulle era a Ravensbrück la sorella del sindaco di New York la guardia era a Ravensbrück su essi sono nomi famosi poi c'erano le infinite donne che non ha però anche questo fatto dell'8 marzo festeggiare la festa della donna in un lager rischiando la pelle perché quello che bisogna capire è che queste donne hanno rischiato di essere massacrate di botte o fucilate beh questa è stata una grande cosa ed è bene che si sappia perché se no altrimenti in una scuola e credo che anche tutti si sentite dire beh ma in fin dei conti il fascismo se non facevano le leggi naziali e la guerra perché si è persa perché se si fosse vinta magari era un po' diverso ma per il resto era accettabile bene la maggior parte l'80% delle donne che noi sappiamo sono arrivate a Ravensbrück sono state arrestate dai fascisti poi consegnate ai nazisti ma sono tutte state arrestate dai fascisti quindi fascismo in fin dei conti vabbè ieri in un incontro a Tivoli è andato molto bene con ragazzi così un signore ha fatto una lunga storia su una provincia italiana e alla fine io e Gianni Focacci è figlio di un deportato a Mauthausen antifascista partigiano bene ci sono domandati ma forse non abbiamo capito noi qui ricordavamo il giorno della morte la deportazione secondo questo signore col fascio era tutto splendido e poi sono arrivati quei rompiballi di fudite di fudite tedeschi ecco noi queste cose e concludo ringraziandovi per l'attenzione per avermi sopportato con una cosa che nel 1995 disse il nostro presidente storico Gianfranco Maris partigiano deportato poi senatore eccetera eccetera quando gli si disse vabbè ma Gianfranco ma non basta essere democratici oggi 1995 e lui risponde il giorno in cui ci intenderemo su che cos'è cosa sono i valori della democrazia forse basterà essere democratici adesso però bisogna essere antifascisti 1995 2020 bisogna essere antifascisti di fudite di fudite di fudite di fudite Grazie a tutti.